Detto questo vi volevo dire semplicemente come ho conosciuto Giorgio, perché credo che bisogna dire, nel 2008 circa, vedo una macchina nera, un'Audi nera con finestrini oscuri e esce questo personaggio che adesso siamo diventati amici e ci propone nel nostro istituto, cioè io quella volta ero responsabile di questo istituto di biochimica clinica, una strana formula, che adesso abbiamo visto che non era poco così strana, allora io che ho fatto, siccome i miei neuroni erano già stanchi allora, immaginate adesso, ho detto io ci capisco poco, chiedo a lei che ha i neuroni più freschi, dico ci ha proposto una ricerca di questa cosa qua, ci siamo guardati un po' e abbiamo detto ma non ci abbiamo capito un granché, confesso, però siccome la ricerca è libera e noi dobbiamo perseguire questa linea della ricerca libera, è giusto che noi proviamo, e abbiamo avuto provandola delle soddisfazioni veramente inaspettate a prima vista, anche perché siamo abituati sempre a ragionare in termini di formula, quando noi parliamo di formula sappiamo che è quello il principio attivo, qui in realtà non c'è un principio attivo, c'è una modulazione, quindi qualcosa anche di forse più interessante. Perché ci siamo occupati di questa molecola? Perché in realtà la cellula neoplastica, ve lo racconto brevemente perché poi lasciamo la parola, è la rappresentazione tipica della vita, se ci pensate, anche nelle sue forme strane. Perché? Perché si è persa una simbiosi ancestrale, cioè voi capite che gli archibatteri erano glicolitici, gli altri erano, il mitocondrio sapete che proviene da batteri, quindi si è rotto un arcano, questo strano arcano che ha riportato una cellula normale che viveva in respirazione a ritornare un individuo quasi monotematico, una monocellula. Quindi era una forma di anarchia all'interno del sistema, quando è ancora più interessante, quindi questa cellula in realtà ci ricorda anche l'immortalità, e anche questo è un altro punto importante. Noi oggi nella ricerca sfruttiamo ancora le cellule ELA, se vi ricordate, l'avete sentito, che è quella signora che 60 anni fa ci ha dato le sue cellule, oggi immortali. Quindi parliamo di un problema biologico estremamente importante, i due batteri ancestrali, uno faceva la glicolisi, uno faceva il mitocondrio, poi per strani arcani dell'ossigenazione, che non è stata immediata, non siamo arrivati a questa percentuale da oggi, veniamo da un processo lungo, a un certo punto la cellula eunoplastica ha pensato di tornarsene come cellula anarchica, per conto suo. Uno ci si pone la domanda, ma questa cellula in realtà fa parte delle cellule? No, perché il fenotipo nella cellula tumorale è geneticamente diverso, cioè il fenotipo ha subito modificazioni, quindi non abbiamo più un fenotipo normale delle altre cellule, è un fenotipo glicolitico. Per i biochimici, la dice veramente grossa, fenotipo glicolitico vuol dire che ha ripreso una strada ancestrale, quindi non riusciamo più a riportarla all'ovile. Quindi questo mi ha entusiasmato molto questo prodotto, perché in realtà non è una molecola che cerca di ragionare con un'altra cellula, ma è un qualcosa che modula questa cellula anarchica per farla ritornare a condividere. Avete capito perché il condividere è importante, altrimenti noi potremmo dire ma questa cellula neoplastica non è in realtà, non è una nostra cellula, non condivide con noi. Quindi il condividere per le cellule è fondamentale. Allora questo mi ha portato ad andare oltre i lidi del fatto pratico, perché la medicina in realtà vuole dare sempre spiegazioni e dopo la spiegazione terapizzare. Questo è un po' l'iter. Ma se noi non pensiamo di capire come ragiona una cellula anomala, le terapie potrebbero non avere nessun significato. Tant'è vero che grazie anche a Giorgio abbiamo scritto questo libro insieme ad altri tre colleghi di cui il professor Biava è qui tra noi, Parlare al cancro. Abbiamo avuto anche un forte coraggio, perché parlare al cancro potrebbe suscitare una marea di vendite o nessuna vendita, cioè paradossalmente. Perché la gente ha paura, parlare al cancro, il titolo non è stato proprio forse al toppe, ma noi l'abbiamo fatto con coraggio perché in realtà è un dialogo con quella cellula che sta tornando a un richiamo della foresta. Cioè qualcuno la sta richiamando indietro. Avete capito perché la cosa mi ha entusiasmato? E questo prodotto forse era uno tra i pochi che mi poteva colmare questa lacuna essendo un modulatore, non va in una direzione. Oggi la farmacologia cerca sempre di trovare la strada, ma è un sistema così complesso che è più facile forse andare nel semplice. Avete visto tutti i meccanismi di segnale, ormai è un elenco telefonico. Il mio amico biologo molecolare di fuori mi dice guarda io mi sono messo a suonare l'ARPA perché è diventato la biologia un volume così alto che io non ci capisco più niente. E l'ARPA mi sta rasserenando molto. Quindi avete capito che sulla semplicità dobbiamo tornare perché nella complessità non abbiamo raggiunto grossi traguardi. È chiaro che abbiamo migliorato la qualità di vita e anche questo poi è da vedere cosa si intende per qualità di vita. Però il mio scopo è cercare di capire cosa pensa questa cellula che non condivide più con noi niente. Ci avete capito il messaggio che vi volevo inviare? Ecco perché mi iscriverò a filosofia perché forse questo mi colmerà molte lacune. La biologia non mi ha dato le giuste cause, la medicina ancora meno, quindi avete capito che devo trovare altri lidi anche se alla mia età. Allora detto questa piccola premessa e ringrazio Giorgio di averci dato la possibilità di studiare un qualcosa di diverso dal solito. Lascio alla mia, il passato e il futuro diceva sempre Einstein non esiste, per me esiste. Io so il passato e lei il futuro. Quindi in realtà non c'è spazio, non c'è tempo però io so il passato e lei continua a dire il futuro. Quindi lei vi spiegherà quello che è stato l'oggetto delle nostre ricerche, di quel famoso contatto con la macchina nera che arrivò in quella piazzetta dell'istituto e da lì è cominciata la storia e adesso vi racconta la dottoressa dove questa storia è approdata, almeno fino ad oggi. Grazie comunque. Buongiorno a tutti, io sono appunto la dottoressa Serena Benedetti, ho lavorato per tanti anni con il professor Canestrari che poi nel 2012 è andato in pensione ma diciamo ho avuto e ho proseguito le ricerche su Cellfood con altri docenti dell'Università di Urbino e soprattutto in collaborazione con l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma nel gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Rossella Galati. Quindi vi voglio un pochino raccontare quello che negli ultimi dieci anni abbiamo fatto come appunto ricerca scientifica su Cellfood. Aspetta, è così? Non va. Eccoci qua. Allora, parliamo di Cellfood come un modulatore fisiologico dell'ossigeno. Che cosa significa, diciamo, dal punto di vista cellulare questa caratteristica? Significa che Cellfood all'interno della cellula utilizza ossigeno alla cellula favorendo quindi la produzione di energia in termini quindi di ATP a livello mitocondriale. Quindi energia che verrà poi utilizzata per tutti i processi biologici cellulari. Ma contemporaneamente non solo, diciamo, durante questa ossigenazione cellulare e produzione di energia sappiamo che si producono specie radicaliche dell'ossigeno che sono appunto i ROS, i radicali liberi, che possono poi danneggiare la cellula, quindi le biomolecole e la cellula, facendone perdere la funzionalità. Quindi il vantaggio grande di Cellfood è proprio quello di, da una parte, favorire la produzione di energia mitocondriale, ma dall'altro proteggere la cellula dalla produzione di radicali liberi che si ha durante appunto questa produzione di energia. E gli studi che hanno dimostrato queste caratteristiche di questo prodotto sono proprio iniziati dalla professoressa Maria Elena Ferrero a Milano, all'Università di Milano, che nel 2011 proprio dimostrò come quando Cellfood viene somministrato a cellule endoteliali in coltura si ha un aumento del consumo di ossigeno intracellulare, quindi all'interno della cellula aumenta il consumo di ossigeno e aumenta a livello del mitocondrio la produzione di energia, quindi sotto forma di ATP. E quindi questo ha dimostrazione di quanto appunto Cellfood sia efficace nel favorire appunto il metabolismo respiratorio mitocondriale. Successivamente all'Università di Urbino, nel nostro gruppo di ricerca, sempre nello stesso anno, quindi nel 2011, dimostriamo come Cellfood ha capacità antiossidanti in vitro. Quindi abbiamo scelto come target dell'ossidazione due biomolecole come il glutatione ridotto, il GSH che sappiamo essere il maggior antiossidante intracellulare, abbiamo scelto la molecola di DNA e poi due tipologie di cellule circolanti quali gli eritrociti e i linfociti. E abbiamo sottoposto quindi queste biomolecole e queste cellule a ossidazione in assenza e in presenza di Cellfood. E abbiamo visto che quando Cellfood è presente appunto nella miscela di razione, è in grado di preservare il GSH dall'ossidazione, quindi è in grado di preservare il GSH nella sua forma ridotta e quindi antiossidante, quindi mantenendo l'integrità appunto delle difese antiossidanti endogene e contemporaneamente a livello del DNA preserva l'integrità di struttura del DNA, quindi evitando che i processi ossidativi possano appunto causare la rottura della doppia elica. Quindi questo è molto importante nel mantenimento dell'integrità di struttura del DNA sia nei confronti del DNA mitocondriale, che sappiamo poi essere coinvolto in numerose patologie se c'è appunto disfunzionalità di questo mitocondrio, sia anche nel DNA nucleare, pensate appunto quanto i fenomeni ossidativi possano anche causare modificazioni delle basi del DNA e se queste modificazioni avvengono in geni che controllano poi anche il ciclo cellulare, pensate per esempio il gene P53, sapete che può avvenire anche la trasformazione neoplastica, per cui preservare il DNA e l'informazione genetica all'interno appunto della cellula è fondamentale. A livello di eritrociti e linfociti abbiamo visto che da una parte SELFUD è in grado di ridurre l'emollisi ossidativa dei globuli rossi, quindi in presenza di ROS sappiamo che si ossidano i lipidi di membrane, quindi si causa emollisi, invece SELFUD è in grado di ridurre appunto l'emollisi dei globuli rossi e contemporaneamente all'interno dei linfociti abbiamo una riduzione dello stress ossidativo intracellulare e quindi tutte queste evidenze insieme ci dicono che SELFUD ha capacità antiossidante proteggendo biomolecole e cellule dallo stress ossidativo che sappiamo poi promuove appunto i processi di invecchiamento, di trasformazione neoplastica e numerose diciamo patologie cronico-degenerative. Anche in vivo quindi ci sono state diverse evidenze che hanno dimostrato come SELFUD sia in grado appunto di migliorare il metabolismo mitocondriale come l'ossigenazione, porti benefici, soprattutto in questo sono studi in ambito sportivo, vedete l'università di Pretoria nel 2001, l'università di Ljubljana nel 2009, sapete che l'attività di ultra endurance come la maratona e anche il ciclismo sono attività in cui si ha un forte consumo di ossigeno, quindi si ha una forte anche produzione di radicali libere a livello muscolare appunto durante la contrazione e si è visto in questi due studi come la supplementazione con SELFUD in questi atleti migliori proprio la disponibilità di ossigeno e con un miglioramento delle prestazioni cardiorespiratorie, quindi un aumento della potenza aerobica e contemporaneamente una riduzione del latato osierico, quindi diciamo nell'ambito sportivo SELFUD ha trovato una grandissima applicazione proprio grazie alle sue proprietà di ossigenazione e quindi di favorire appunto il metabolismo energetico mitocondriale. Non solo nell'ambito sportivo ma anche nell'ambito diciamo patologico ci sono state delle evidenze scientifiche molto favorevoli appunto alla somministrazione di SELFUD, quale ad esempio questo studio del 2007 dell'Università di Siena in cui ha dimostrato appunto l'efficacia del trattamento di SELFUD in pazienti fibromialgici, dove sappiamo è un disordine complesso che è associato a disfunzione mitocondriale e in questi soggetti la supplementazione con SELFUD porta proprio a un miglioramento significativo di tutta la sintomatologia dolorosa, della debolezza muscolare, della stanchezza con anche miglioramento proprio dei disturbi dell'umore. Questo è uno studio del 2013 dell'Università di Milano dove la professoressa Bamonti ha appunto valutato l'efficacia di SELFUD silica plus, quindi abbiamo SELFUD in combinazione con il silicio, in donne osteopeniche. Vedete un trattamento di 12 settimane, da una parte ha favorito la riduzione diciamo dei marcatori specifici di riassorbimento osseo quindi questo sicuramente un effetto immediato dal silicio, dall'altra a livello osierico vediamo una riduzione di alcuni marcatori che danno ossidativo alle proteine circolanti che sono le LDL ossidate. quindi sappiamo essere responsabili della formazione della placca aterosclerotica quindi questo in vivo ha un'azione antiossidante molto importante perché serve proprio per la prevenzione del rischio cardiovascolare e la formazione della placca aterosclerotica. Infine lo studio della professoressa Ferrero nell'ambito della neurodegenerazione che penso poi ecco in maniera approfondita ve ne parlerà nella relazione successiva quindi non mi soffermo ulteriormente ma diciamo benefici sempre a livello diciamo di metabolismo e di ossidazione nei pazienti con patologie neurodegenerative dove vediamo proprio una riduzione dei livelli di ossidazione e un aumento delle difese antiossidanti plasmatiche quindi sicuramente utilissimo da quello che abbiamo detto come diciamo coadjuvante nella prevenzione e nel trattamento di condizioni sia fisiologiche che patologiche che possono essere quindi legate allo stress ossidativo dall'attività fisica intensa ecco alla neurodegenerazione quindi sono vedete indicate in questa figura numerosissime ecco le patologie legate al danno ossidativo quindi da radicali libere in questo contesto grazie appunto alla sua azione antiossidante Salfood è sicuramente un valido appunto aiuto nel contrastare i fenomeni ossidativi. La seconda parte di questa relazione invece si concentra proprio sull'attività antiproliferativa di Salfood come vi dicevo sono nate diciamo è nata una collaborazione molto proficua tra l'università di Urbino e la regina Elena di Roma questa foto risale a qualche anno fa al sana di Bologna dove appunto oltre a Giorgio e a me e al professor Canestrari riconosciamo dell'università di Urbino la segnista che lavorava su Salfood con grande impegno ha fatto anche la sua tesi di dottorato proprio su Salfood la dottoressa Catalani e la professoressa Battistelli che ha seguito poi la ricerca dopo il pensionamento del professor Canestrari e questa è Rossella Galati appunto del regina Elena di Roma che appunto è stata coinvolta in questi studi in vitro e poi vedremo anche in vivo e quindi che ha portato veramente una collaborazione grandissimi risultati e queste sono appunto le pubblicazioni che sono emerse la prima pubblicazione risale al 2013 uno studio fatto appunto dall'università di Urbino in questo caso vedete abbiamo valutato gli effetti di Salfood diciamo su cellule tumorali in coltura in particolare quindi cellule leucemiche e siamo andati ad investigare nelle cellule che avevano appunto ricevuto Salfood le modificazioni del metabolismo cellulare e l'induzione di apoptosi che sapete essere appunto processi di morte cellulare vedete le cellule sono state incubate fino a 72 ore con Salfood alla concentrazione di 5 microlitri per ml immaginate come fossero 25 gocce ecco in 200 ml in un bicchiere d'acqua e che cosa abbiamo evidenziato? allora per prima cosa abbiamo osservato che c'è un'inibizione della crescita cellulare tumorale vedete che è anche tempo dipendente nelle tre linee cellulari che abbiamo investigato quindi c'è una riduzione fino al 50% della crescita delle cellule tumorali e abbiamo dimostrato che questa attività antiproliferativa è dovuta a un'induzione del meccanismo apoptotico l'abbiamo visto evidenziando l'attivazione della caspasi 3 che è una proteina effettrice dell'apoptosi e andando ad evidenziare la frammentazione del DNA nucleare che è mostrato in questa figura che è un processo tardivo del processo apoptotico quindi è a dimostrazione che Salfood nella cellula tumorale induce morte cellulare per apoptosi mentre non si hanno effetti su cellule sane e di controllo non l'ho mostrato ma naturalmente nella cellula sana non si hanno effetti quindi c'è un'azione antiproliferativa specifica questi i risultati riguardanti il metabolismo cellulare come diceva il professor Canestrari la cellula tumorale è una cellula che per la sua produzione di energia predilige la via glicolitica quella che dal glucosio porta alla produzione di lattato bypassando il metabolismo ossidativo mitocondriale quello che conosciamo come effetto Warburg e quindi che cosa succede? che nella cellula tumorale aumenta l'attività di questo enzima lattato da idrogenasi con grandissima produzione diciamo di lattato e quindi acidificazione del mezzo extracellulare nelle nostre cellule incubate con Salfood abbiamo visto una riduzione significativa dell'attività dell'enzima lattato da idrogenasi con contemporanea anche riduzione del rilascio del lattato nel mezzo diciamo extracellulare quindi ad indicare che Salfood è in grado di ridurre quindi inibire la via glicolitica citoplasmatica contemporaneamente abbiamo osservato che Salfood è in grado di ridurre la concentrazione del fattore ipostico HIV1α che sappiamo essere diciamo che si accumula nelle cellule ipostiche all'interno della massa tumorale e sappiamo che l'accumulo di HIV1α poi a livello di DNA favorisce la trascrizione di geni che sono proprio coinvolti nei processi glicolitici nei processi di angiogenesi e di proliferazione per cui la riduzione significativa di HIV1α all'interno della cellula tumorale è fondamentale per contrastare proprio la proliferazione della cellula tumorale vedete contemporaneamente HIV1α per favorire il metabolismo glicolitico favorisce la sovraespressione dei recettori di membrana per il glucosio di modo che la cellula possa captare più glucosio e noi vediamo che con Salfood si riduce l'espressione del glutuno che è il principale recettore di membrana per il glucosio quindi vedete contemporaneamente abbiamo modificazione del metabolismo glicolitico intracellulare quindi con azione diciamo pro-apoptotica quindi di morte cellulare questo secondo studio è stato invece eseguito a Roma quindi presso l'Istituto Tumori Regina Elena e riguarda lo studio dei fenomeni apoptotici in cellule tumorali che originano da tumori solidi quindi vedete cellule di melanoma, mesotelioma e carcinoma alla mammella colon, polmone e vescica quindi mentre prima ad Urbino abbiamo lavorato su tumori ematologici in questo caso siamo nel caso di tumori solidi anche in questo caso vedete la supplementazione di Salfood 5 microlitri per ml fino a 48 ore di incubazione con valutazione dei processi apoptotici e anche la valutazione dei pathway di sopravvivenza cellulare che quindi favoriscono la proliferazione cellulare e qui sono stati veramente numerosi i dati ottenuti di tutte le linee studiate due linee di mesotelioma, MSTO, di carcinoma al colon, HCT116 sono risultate le più sensibili quindi Salfood riduce la crescita cellulare in maniera significativa in tutte le linee cellulari ma soprattutto ecco in queste cellule raggiungendo vedete a 48 ore oltre l'80% di inibizione della crescita cellulare si è visto anche che in queste linee si ha una riduzione della capacità di formare colonie della cellula tumorale che è una caratteristica fondamentale per la sua capacità metastatica e contemporaneamente per quanto riguarda i meccanismi apoptotici abbiamo visto un'attivazione della caspasi 3 e il cleavage di parpa che sono proteine coinvolte sempre nei processi apoptotici che dimostrano l'induzione di apoptosi di Salfood Salfood che agisce anche a livello di ciclo cellulare perché favorisce l'espressione di proteine che arrestano il ciclo cellulare come ad esempio P53, P21 e P27 e riduce contemporaneamente l'espressione di CMYC che invece è una proteina deputata alla progressione del ciclo cellulare quindi diciamo che tutto questo contesto biochimico dimostra come Salfood sia in grado appunto di arrestare il ciclo cellulare e mandare quindi la cellula in apoptosi grazie anche all'inibizione dei pathway di sopravvivenza della cellula tumorale soprattutto quelle mediate da HKT una proteina che è molto iperespressa nel tumore e che conferisce proprio resistenza all'apoptosi in particolare la sua forma attiva fosforilata che si chiama, vedete, P-HKT e si vede come, guardate, in presenza di Salfood non c'è più espressione di questa proteina attivata quindi significa che Salfood è in grado di bloccare l'attivazione di questa proteina e contemporaneamente blocca anche BCL2 che è una proteina anti-apoptotica quindi anche in questo caso si dimostra il blocco delle vie che favoriscono la sopravvivenza della cellula tumorale a favore quindi di un processo apoptotico quindi di morte cellulare e quindi possiamo concludere l'attività antiproliferativa in vitro diciamo di Salfood dicendo che Salfood può agire diciamo a diversi livelli del processo di carcinogenesi perché può bloccare le fasi iniziali della carcinogenesi grazie alla sua azione antiossidante sappiamo che i ROS, quindi le specie reattive dell'ossigeno sono molecole che sono in grado appunto attraverso il danno ossidativo al DNA indurre il processo di carcinogenesi quindi grazie alla protezione quindi alla capacità di preservare l'integrità di struttura del DNA impedisce, diciamo, a una fase di prevenzione quindi nell'inizio della carcinogenesi grazie poi abbiamo visto alla modulazione del metabolismo glicolitico e all'inibizione delle vie di segnale che favoriscono proprio la sopravvivenza della cellula tumorale Salfood può agire anche negli stadi successivi quindi a livello di promozione e progressione della carcinogenesi quindi questo era il quadro in vitro che diciamo tra l'Università di Urbino e l'Istituto Tumori Reginella di Roma si era prospettato, diciamo, fino a qualche anno fa e quindi è stato naturale pensare che questo nutraceutico nella clinica poteva avere una grande utilità sia come chemio preventivo che come anche supporto al trattamento antineoplastico e quindi la ricerca all'Istituto Tumori Reginella è proseguita e questi sono dati appunto nuovi che sono in fase di pubblicazione e abbiamo ricevuto proprio questa settimana la notizia dell'accettazione di questo lavoro su una rivista molto prestigiosa che è Therapeutic Advances in Medical Oncology dove appunto gli studi oncologici sono passati da un modello in vitro a un modello in vivo a livello di studi a livello di modelli animali e questo studio dimostra appunto l'efficacia di Salfood nel migliorare l'effetto della radioterapia e della chemioradioterapia appunto in modelli oncologici animali questo studio in particolare è stato caratterizzato inizialmente da alcune prove preliminari in vitro utilizzando sempre cellule tumorali in coltura sottoposte a radioterapia a chemioterapia o a trattamento combinato in presenza e in assenza di Salfood quindi con valutazione della crescita cellulare quindi questa era una prova preliminare per vedere appunto che cosa succedeva in presenza e in assenza di Salfood quando le cellule erano sottoposte a radioterapia e chemioterapia da prove preliminari in vitro che come vi farò vedere con ottimi risultati si è passato ad un modello xenograf di mesotelioma in topi nudici di uno in cui sono stati iniettati per via sottocutanea cellule di mesotelioma vedete MSTO e poi è stata valutata la crescita della massa tumorale fino a 60 giorni dall'inoculo in presenza quindi naturalmente in assenza di Salfood e vediamo i risultati allora le prove in vitro hanno dimostrato che quindi vedete queste sono due linee cellulari la MSTO è un mesotelioma Cal27 è un carcinoma della lingua si vede come naturalmente si vede come sia il trattamento combinato con Salfood è in grado di ridurre la crescita cellulare e questo è vero sia quando Salfood è in combinazione con il cisplatino quindi si ha una riduzione significativa della crescita rispetto al solo cisplatino sia quando Salfood si combina la radioterapia quindi si ha un'ulteriore riduzione della crescita cellulare rispetto alla sola radioterapia e sia quando si ha un trattamento proprio combinato di chemioradioterapia quindi in tutti questi casi si osserva un effetto sinergico del trattamento con Salfood appunto ai trattamenti chemioterapici e radioterapici standard quindi la conferma appunto della capacità di Salfood di essere appunto un sinergico nel trattamento antinoplastico e quindi si è passato ai modelli animali e sono stati utilizzati due diversi protocolli di indagine nel primo protocollo si è voluto vedere se Salfood potesse avere effetti preventivi nella formazione della massa tumorale quindi vedete i topi sono stati suddivisi in diversi gruppi 10 topi per gruppo allora naturalmente il gruppo di controllo non ha ricevuto nessun trattamento e poi vedete i gruppi che hanno ricevuto Salfood alcuni hanno ricevuto Salfood solo prima dell'inoculo delle cellule tumorali alcuni un gruppo solo dopo la formazione della massa tumorale e invece questo gruppo ha ricevuto vedete Salfood in maniera continuativa quindi sia prima dell'inoculo che dopo diciamo la formazione della massa tumorale per 50 giorni e che cosa è stato osservato? è stato osservato che Salfood ha una grande capacità preventiva nella formazione del tumore addirittura quando Salfood viene somministrato prima dell'inoculo delle cellule tumorali si ha nel 60% dei topi non si ha formazione di massa tumorale e questa percentuale aumenta al 70% quando Salfood viene dato non solo prima del trattamento ma viene somministrato in maniera continuativa per 50 giorni quindi questa prima evidenza dimostra come Salfood abbia una capacità appunto di prevenzione quindi in questo caso sono cellule di mesotelioma nel secondo protocollo invece Salfood è stato diciamo somministrato in combinazione o con la radioterapia o con la chemioterapia o con un trattamento combinato di chemio e radioterapia dopo la formazione della massa tumorale quindi sono state iniettate le cellule di mesotelioma dopo 10 giorni si ha la formazione della massa tumorale e poi nei vari gruppi diciamo di animali vedete questo gruppo ha ricevuto solo Salfood questo solo la radioterapia questo solo la chemio questo chemio più Salfood qui c'è la chemio più la radio qui la radio con Salfood e qui chemio radio e Salfood quindi vedete che studio complesso è stato fatto per cercare di capire quali erano le combinazioni ottimali per ridurre diciamo la massa tumorale e si è dimostrato Salfood molto efficace in particolare nei confronti in combinazione diciamo della radioterapia infatti infatti si può osservare che oddio scusate ho spinto troppo ecco quindi Salfood più radioterapia è questa linea in basso quindi il trattamento con Salfood in combinazione con la radioterapia riduce in maniera significativa il volume della massa tumorale rispetto alla sola radioterapia la sola radioterapia è questa linea tratteggiata qui quindi vedete questo solo radioterapia e qui radioterapia in combinazione con Salfood una riduzione significativa la stessa cosa si è osservata nell'ambito del trattamento combinato chemioterapia e radioterapia vedete questo è il trattamento combinato chemioterapia e radioterapia e l'ultima riga in grigio tratteggiata è appunto il trattamento combinato in presenza di Salfood quindi a dimostrazione di come Salfood una volta diciamo formata anche la massa tumorale sia efficace nel favorire la riduzione di tale massa in combinazione appunto con il trattamento radioterapico o chemio radioterapico con un meccanismo d'azione sicuramente che deriva dal fatto che c'è un aumento dell'ossigenazione cellulare che favorisce appunto la formazione di ROS in presenza di radiazioni ionizzanti e radioterapia sapete che la radio la radiazione ionizzante causa danno attraverso formazione in presenza di ossigeno quindi formando ROS radicali libri che causano danno e rottura della doppia elica del DNA che cosa succede che quindi la radioterapia è efficace nelle cellule ben ossigenate sapete che la cellula tumorale di solito vive appunto in condizioni ipossiche con basse concentrazioni di ossigeno e che cosa succede quindi in presenza di self che aumenta la porzione diciamo di cellule ben ossigenate e per cui si potenzia diciamo l'azione citotossica della radioterapia quindi aumentando la produzione di ROS che a livello di cellula tumorale favorisce quindi la morte della cellula tumorale e questa cosa diciamo questo fenomeno si evidenzia ancora di più quando la radioterapia si combina la terapia standard il cisplatin lo sapete che agisce sempre su cellule ossigenate formando radicali liberi quindi quando si ha il trattamento combinato di radioterapia e chemioterapia l'azione di self è ancora più evidente due minuti ho fatto quindi assolutamente i dati che fino ad oggi sono stati raccolti sia in vitro che nei modelli preclinici animali diciamo ci fanno naturalmente già proiettare nel futuro verso studi clinici quindi con pazienti oncologici che proprio al fine di cercare di migliorare quindi come terapia diciamo coadjuvante alle terapie antineoplastiche standard di chemioterapia o radioterapia quindi diciamo questo era uno schema pubblicato dal nostro gruppo di ricerca insieme alla professoressa Galati nel 2015 dove appunto suggeriva tra i supplementi appunto nutrizionali l'utilizzo appunto di self food appunto nelle così tra le varie così come anche vedete altri anche fitochimici nel trattamento appunto in supporto alla chemioterapia e alla radioterapia ringrazio tutti per l'attenzione volevo ringraziare in particolare appunto le persone che in passato hanno lavorato su self food e che per motivi diversi naturalmente non lavorano più all'università di Urbino ma che hanno contribuito in maniera fondamentale che sono appunto il professore Franco Canestrari la professoressa Battistelli e la mia collega e amica Simona Catalani volevo soprattutto fare un augurio di Quala Rossella che Galati che non è potuta qui venire a raccontare la sua esperienza di ricerca appunto nei modelli animali perché per problemi di salute e quindi auguro a lei una pronta guarigione e quindi vi ringrazio se avete poi domande o curiosità insomma sono a disposizione capisco che la tematica è un po' complessa molto biochimica molto però brillantemente esposta e ti ringraziamo e purtroppo non c'è il tempo per la discussione per adesso grazie grazie